Una vera e propria rivoluzione rapportata ad un sistema di vita che si era consolidato da due anni a questa parte. Da domani, con la fine dello stato di emergenza, cambia praticamente tutto nel rapporto con il Covid. Sarà ad esempio archiviato il Super Green Pass, che resterà obbligatorio solo per accedere a cinema, teatri, discoteche, palestre e piscine, mentre resterà necessario il certificato verde base, quello che si può avere con un tampone negativo fatto in farmacia, per accedere all'attività al chiuso, come ad esempio i ristoranti. Si potrà invece consumare liberamente al bar e il pass non sarà più necessario anche negli hotel, nei negozi e nei mezzi di trasporto pubblico locale. Le mascherine resteranno obbligatorie al chiuso, ancora per un mese, e dovrebbe sparire, si spera, dal primo maggio. Finisce anche il sistema delle colorazioni delle regioni e cambiano anche le regole per la quarantena. Dopo un contatto stretto con un positivo al Covid, non ci sarà distinzione tra vaccinati e non vaccinati. Per tutti sarà infatti previsto un periodo di autosorveglianza di 10 giorni, con l'obbligo di indossare la mascherina FFP2. L'isolamento rimarrà solo per i positivi. Queste novità avranno un impatto importante nelle scuole, dove rimarrà solo l'obbligo di indossare le mascherine chirurgiche. In presenza di almeno 4 casi di positività tra alunni nella stessa classe, le attività proseguiranno comunque in presenza, mentre per gli insegnanti e i bambini che hanno più di 6 anni è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. La didattica a distanza varrà soltanto per lo studente risultato positivo, che sarà poi riammesso dopo il periodo di isolamento e un tampone negativo. Per i sintomatici sarà necessario un test antigenico molecolare che escluda l'infezione. In ultimo, dopo due anni, torneranno le gite, le uscite didattiche e le manifestazioni sportive e scolastiche.